L'eurozona evita per un soffio la recessione nel primo trimestre del 2012, ma non va oltre un risicato 0%. A salvarla è l'economia tedesca, l'unica in crescita tra le grandi. Gli analisti avevano previsto un meno 0,2% sulla linea di quanto registrato nell'ultimo trimestre del 2011, quando la crescita è sprofondata a meno 0,3%. L'economia tedesca con il suo più 0,5% ha creato la sorpresa, in controtendenza rispetto alla Francia, economicamente ferma e all'Italia che scivola oltre ogni previsione. La contrazione dell'economia nazionale nel primo trimestre del nuovo anno ha fatto segnare un meno 0,8% e secondo gli analisti la tendenza potrebbe confermarsi per ancora due trimestri.